Aspetto. Il Border Terrier è il più piccolo dei terrier da lavoro. Questa è una razza inglese, caratteristica delle contee di confine tra Inghilterra e Scozia. È un cane forte con un temperamento equilibrato. L'altezza algarrese è di circa 28 centimetri. Il peso del cane è di 5,9 al 7,1 kg, la cagna è di 5,1 al 6,4 kg. Il colore è rosso, grano, pepe e sale, blu rossastro. La testa è simile a quella di una lontra, con cranio moderatamente largo, muso corto e forte e chiusura a forbice. Gli occhi sono scuri, lo sguardo è vivace. Le orecchie sono piccole, a forma di V, inclinate in avanti. Si preferisce un naso nero, ma marrone scuro o color carne non è considerato un difetto grave. La coda è moderatamente corta, e piuttosto grossa alla base, si assottiglia verso l'estremità, attaccata alta, portata allegramente, ma non piegata sul dorso. Le osa degli arti non sono grandi. Il pelo è fitto e fitto, con un fitto sottopelo. Le zampe sono piccole, con cuscinetti spessi. Tratti distintivi del carattere. Sebbene a volte, siano testardi e volitivi, i Border Terrier sono cani sani. Amichevole e raramente aggressivo. Vanno d'accordo con i bambini, ma possono inseguire gatti e altri piccoli animali domestici. I Border Terrier sono bravi nei compiti, e hanno un'incredibile capacità di saltare in alto e correre veloci date le dimensioni dei loro piedi. La razza eccelle nell'insegnare l'agilità, ma impara a saltare e oscillare più velocemente. Sono intelligenti e cercano di compiacere, ma allo stesso tempo conservano la capacità di pensiero e iniziativa indipendenti, che è stata instillata in loro. Il loro amore per gli umani e persino il loro temperamento li rendono ottimi cani da terapia, specialmente per bambini e anziani, e talvolta sono usati per aiutare i ciechi o i sordi. Dovrebbero essere insegnati fin dalla giovane età. Andranno d'accordo con i gatti con cui sono cresciuti, ma possono inseguire altri gatti e piccoli animali come topi, uccelli, conigli, scoiattoli, ratti e porcellini d'India. Border Terrier è molto indipendente e leale. I Border Terrier amano sedersi e guardare cosa succede. Mentre camminano, spesso si siedono, o si sdraiano sull'erba, e osservano l'ambiente circostante. Una razza di cani da caccia allevati per cacciare un animale di taglia media. Il loro compito principale è quello di scacciare il gioco da una buca, o da un altro rifugio. Tuttavia, possono anche funzionare perfettamente sulla scia di sangue. Cani energici, agili con un olfatto ben sviluppato, dispettosi nei confronti della bestia, ma abbastanza fedeli anche agli estranei e ai cani. Comodo da tenere in un ambiente urbano, se c'è la possibilità di camminare a lungo termine. Punti salienti e fatti interessanti. Il valore del primo Border Terrier come terrier da lavoro si basava sulla sua capacità di inseguire e abbattere le volpi. Il Border Terrier Club è stato fondato nel 1920 in collaborazione con l'English Kennel Club. Il Border Terrier ha un mantello resistente alle intemperie con un rivestimento esterno duro, e un sottopelo morbido che respinge la maggior parte dello sporco. Nel XVIII secolo, nella fattoria, questi cani cercavano cibo per se stessi, quindi dovevano essere buoni cacciatori per sopravvivere. La prima registrazione di un Border Terrier negli Stati Uniti risale al 1930. Per natura, Border Terrier si distingue per una disposizione gentile. Storia della razza. Come suggerisce il nome, il Border Terrier proviene dalle regioni di confine dell'Inghilterra e della Scozia, dove questi cani piccoli e robusti venivano usati per cacciare tassi e volpi. Allo stesso tempo, dovevano essere abbastanza piccoli da penetrare nei buchi di questi animali e avere anche gambe abbastanza lunghe per stare al passo con i cavalli. Il Border Terrier doveva anche avere un cappotto che lo proteggesse dal freddo, dall'umidità e dalle lesioni. Gli era richiesta anche una certa acutezza, necessaria per cacciare piccoli animali predatori. Poiché i cani sono stati utilizzati principalmente nel branco, vanno d'accordo tra loro. Tutte queste qualità del Border Terrier, che è diventato il terrier da caccia preferito nella sua terra d'origine, sono state conservate fino ad oggi. Viene spesso utilizzato per la caccia insieme ai cani da caccia. Border Terrier è stato ufficialmente riconosciuto nel 1920. Manutenzione e cura. Border Terrier dovrebbe essere nutrito con cibo per cani di alta qualità o buon cibo naturale, sotto la supervisione e l'approvazione del veterinario. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane, cucciolo, adulto o anziano. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Verifica con il tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla dieta del tuo cane. L'acqua fresca e pulita dovrebbe essere sempre nella ciotola. Il Border Terrier ha un doppio strato. Un cappotto esterno duro su un sottopelo soffice e soffice. Come la maggior parte delle razze a doppio rivestimento, il Border Terrier perde stagionalmente. Nella maggior parte dei casi, spazzolare un breve periodo ogni settimana o due è sufficiente per mantenere il mantello in buona forma. Durante la stagione della muta, i proprietari dovranno dedicare circa mezz'ora al giorno a rimuovere i capelli con le mani, o con un tagliacapelli. Lo strato esterno respinge lo sporco, ma il bagno riduce questa capacità. Di solito Border Terrier sporco può essere lavato con un asciugamano e una spazzola. Come per tutte le razze, le unghie di biti dovrebbero essere tagliate regolarmente. I Border Terrier sono attivi e richiedono un esercizio quotidiano. Una camminata veloce di mezz'ora o giocare con il suo proprietario, e una palla, o un disco volante dovrebbero essere sufficienti per mantenere il Border Terrier sano e felice. A causa del loro istinto di inseguire piccoli animali, i Border Terrier dovrebbero essere sempre portati al guinzaglio, e le sessioni di gioco dovrebbero svolgersi in un cortile recintato o in un'altra area sicura. I Terrier sono scavatori, quindi idealmente qualsiasi recinzione del cortile, dovrebbe essere sepolta almeno 40 cm sottoterra. I Border Terrier amano il trekking, il coursing, l'agilità e lo sled dog, così come gli sport canini come i fliball. La socializzazione precoce e le lezioni di addestramento dei cuccioli, sono un mus per il Border Terrier. Border Terrier è stato allevato per pensare da solo quale potrebbe essere la sua qualità più attraente e più deludente. Quando gli viene ordinato di restare, farà tutto ciò che riterrà sufficiente, e poi se ne andrà per i suoi affari. Se vuoi un cane costantemente obbediente, non comprare il Border Terrier. Virgolette ricorda che il Border Terrier non può resistere all'inseguimento, e dovrebbe essere senza guinzaglio solo in aree recintate in modo sicuro. Salute. Il Border Terrier è generalmente una razza resistente, sebbene siano stati associati alcuni problemi di salute genetica, tra cui. Displasia dell'articolazione dell'anca. Malattia di Pertes. Vari difetti cardiaci. Cataratta giovanile. Atrofia progressiva della retina. Convulsioni. Singrome da spasmo epilettoide convulsivo canino. Secondo un sondaggio condotto dal Kennel Club of Create Britain, la loro aspettativa di vita media è di 14 anni e l'età massima è di 22 anni. Prezzo e come acquistare correttamente. Pro le senza possibilità di esposizione, ulteriori costi di allevamento da 150 dollari USA. Se ci sono piani per futuri cuccioli come genitori, il prezzo aumenta di 2 marzo volte. I cuccioli di classe spettacolo partono da 900 dollari. Linea di fondo. Il Border Terrier è un cane a pelo ruvido originariamente allevato per cacciare volpi e faine. Il Border Terrier ha bisogno di gambe lunghe per stare al passo con i cavalli a caccia, e un corpo piccolo è adatto per strisciare nelle tane. Border Terrier è consigliato per i proprietari che amano le passeggiate attive e potranno dedicare molto tempo al proprio animale domestico. La razza si distingue per l'intelligenza, ed è facile da addestrare, va d'accordo con i bambini.